Non posso andare da loro. Voglio dire, non contano più per me. Senti, non hai bisogno della polizia per trovare chi ha ucciso Tommy, bastiamo noi. Basterà semplicemente fargli arrivare la voce che l'abbiamo noi, quella borsa con la roba. E vedrai che saranno loro a cercare noi. E come pensi di riuscirci? C'è tutto un giro di persone che ci può aiutare. Dobbiamo contattarle. Persone che conosco come un certo Marsha. Ma Daryl, se vogliamo farcela così, avrai bisogno di cambiare un pochino. Se arriveremo a incontrarli, dovrai giocare secondo le loro regole. Te la senti, sì? Voglio trovarli. Chi sono, sono. In qualunque posto. No, questa cerpa via. Così va bene. Va meglio. Sei in. Sei tipico. Vieni. Ehi. Venite qui. E la...